e nelle giornate piovose essi si radunavano spesso raddoppiavano la posta e dio mi perdoni da 50 a 100 e vincevano e segnavano col gesso così nelle giornate piovose essi si davano al lavoro un giorno si giocava a carte da narumov della guardia a cavallo la lunga notte invernale passò inavvertitamente ci si mise a cena dopo le 4 del mattino quelli che erano rimasti vincitori mangiavano con grande appetito gli altri stavano seduti nella loro distrazione davanti alle stoviglie vuote ma comparve lo champagne la conversazione si animò e tutti vi presero parte che ha fatto surin domandò il padron di casa ha perso al solito bisogna riconoscerlo sono sfortunato gioco come un saggio non mi accalò ormai non c'è verso di togliermi di carreggiata ne perdo sempre non ti sei lasciato tentare neppure una volta neppure una volta hai puntato nel route la tua fermezza mi fa stupire ma come fa german disse uno degli ospiti indicando un giovane ufficiale del genio da che al mondo non ha preso in mano una carta da che al mondo non ha raddoppiato neanche una posta da su con noi fino alle 5 e guarda il nostro gioco il gioco mi interessa fortemente disse german ma non sono in grado di sacrificare l'indispensabile per la speranza di acquistare il superfluo german è un tedesco è economo ecco tutto osservò tomsky ma se c'è qualcuno che è incomprensibile per me e mia nonna la contessa anna fedotovna come chi ridarono gli ospiti non posso concepire seguita tomsky per quale ragione mia nonna non giochi d'azzardo ma che cosa c'è mai di sorprendente disse narumov nel fatto che una vecchia ottantenne non giochi d'azzardo allora voi non sapete nulla di lei no davvero nulla allora sentite bisogna sapere che mia nonna un 60 anni fa andava a parigi e la era molto di moda la gente le correva dietro per vedere la venus moscovit le sceglie le faceva la corte e la nonna assicurava che egli fu sul punto di spararsi per la crudeltà di lei in quel tempo le signore giocavano al faraone un giorno a corte e la perse sulla parola col duca d'orlean qualcosa di molto grosso venuta a casa la nonna mentre staccava in ai dal viso e slegava il panier annunciò al nonno la sua perdita e gli ordinò di pagare un povero nonno per quel che ricordo era una specie di maggiordomo della nonna la teneva come il fuoco tuttavia avendo sentito una così tremenda perdita andò fuori di sé portò i conti e dimostrò che in sei mesi aveva speso mezzo milione che vicino a parigi non avevano né i possessi della campagna moscovita né quelli di saratov e rifiutò nettamente di pagare la donna gli diede un ceffone andò a letto da sola in segno del suo sfavore il giorno dopo fece chiamare il marito sperando che la punizione domestica avesse agito su di lui ma lo trovò incrollabile per la prima volta in vita sua e la giunse con lui fino ai ragionamenti e alle spiegazioni pensava di convincerlo dimostrando con fare condiscendente che non tutti i debiti erano uguali e che c'era differenza fra un principe e un carrozzaio ma che il nonno si ribellava no e basta la nonna non sapeva che fare e la conosceva intimamente una persona molto ragguardevole voi avete sentito parlare del conte di saint germain sul quale si raccontano tante meraviglie sapete che egli si faceva passare per l'ebreo errante per l'inventore dell'elisir di lunga vita e della pietra filosofale eccetera lo deridevano come un ciarlatano e casanova nelle sue memorie dice che era una spia del resto saint germain malgrado la sua misteriosità aveva un aspetto molto rispettabile e in società era una persona molto gentile la nonna ancora adesso va pazza per lui e si arrabbia se parlano di lui con poco rispetto la nonna sapeva che saint germain poteva disporre di forti somme si decise a ricorrere a lui gli scrisse un biglietto e lo pregò di venire immediatamente da lei il vecchio stravagante comparve subito e la trovò in una tremenda desolazione ella gli descrisse coi colori più neri la barbarie del marito e disse infine che tutte le proprie speranze le riponeva nella sua amicizia e cortesia saint germain si fece pensieroso io posso venirvi in aiuto per questa somma disse egli ma so che non sarete tranquilla finché non vi sarete sdebitata con me e io non vorrei porvi in nuove difficoltà c'è un altro mezzo potete riguadagnar tutto ma caro conte rispose la nonna vi dico che non abbiamo più denari affatto qui non c'è bisogno di denari ribatte saint germain abbiate la bontà di ascoltarmi a questo punto egli le svelò un segreto che ciascuno di noi pagherebbe caro i giovani giocatori raddoppiarono l'attenzione pomsky accese la pipa aspirò il fumo e continuò quella medesima sera la nonna comparve a versailles o jeu de la reine il ducador lean teneva il banco la nonna si scusò lievemente di non aver portato il suo debito come giustificazione inventò una piccola storia e cominciò a puntare contro di lui scelse tre carte e giocò una dietro l'altra tutte tre la fecero vincere in pieno e la nonna riguadagnò tutto completamente è un caso disse uno degli ospiti è una favola notò german può essere che fossero carte segnate soggiunse un terzo non credo rispose tomsky con aria di importanza come disse narumov hai una nonna che indovina tre carte di fila e finora non ha imparato da lei la sua cabalistica sì per tutti i diavoli rispose tomsky il ebbe quattro figli tra i quali anche mio padre tutte quattro giocatori arrabbiati e neppure uno rivelò il suo segreto benché non sarebbe stato male per loro e neanche per me ma ecco quel che mi ha raccontato mio zio il conte ivan ilic e quel che mi ha assicurato sul suo onore il povero ciaplicchi quello stesso che è morto in miseria dopo aver sperperato dei milioni una volta nella sua giovinezza perse viralmento con zoric quasi trecentomila rubli era disperato la nonna che era sempre severa per le scappate dei giovanotti chissà come si impietosì di ciaplicchi gli indicò tre carte perché le mettesse una dietro l'altra e si fece dare da lui la parola d'onore che per l'innanzi non avrebbe più giocato ciaplicchi comparve dal suo vincitore si misero a giocare ciaplicchi mise cinquantamila rubli sulla prima carta e vinse in pieno raddoppiò la posta la raddoppiò ancora facendo la bella riguadagnò tutto e rimase ancora in vincita però è ora di andare a letto sono già le cinque e tre quarti infatti albeggiava già i giovani finirono di bere i loro calici e si separarono il parecchio messier è decisamente pur risuovano che volevo madame è il son plus fraiche la vecchia contessa era seduta davanti allo specchio nel suo spogliatoio tre donne di servizio la circondavano una teneva in mano un vaso di belletto un'altra una scatola con le forcine la terza una cuffia alta con dei nastri color del fuoco la contessa non pretendeva in nessun modo una bellezza sfiorita da gran tempo ma conservava tutte le abitudini della sua giovinezza seguiva strettamente la moda dell'ottavo decennio del secolo scorso e si vestiva altrettanto a lungo altrettanto accuratamente come i sessant'anni prima presso la finestra sedeva al telaio una signorina la sua protetta buongiorno gran mamma disse entrando un giovane ufficiale bonjour mademoiselle lise gran mamma vengo a chiedervi un piacere cosa c'è paul permettete che io vi presenti uno dei miei amici e che lo porti al vostro ballo venerdì portalo direttamente al ballo e là me lo presenterai ieri sei stato dai e come ci siamo divertiti molto abbiamo ballato fino alle cinque com'era bella la leccaia e mio caro che cosa c'è di bello in lei era forse così la sua nonna la principessa d'aria petrovna a proposito deve essere già molto invecchiata la principessa d'aria petrovna come invecchiata rispose distrattamente tomschi saranno sette anni che è morta la signorina levò il capo e fece un segno al giovanotto egli si ricordò che alla vecchia contessa nascondevano la morte delle sue coetane e si morse il labbro ma la contessa ascoltò la notizia nuova per lei con grande indifferenza è morta disse ella e io non lo sapevo neppure eravamo state create da michelle d'onore insieme e quando fummo presentate l'imperatrice e la contessa raccontò al nipote il suo aneddoto per la centesima volta su paul e la disse poi adesso aiutami ad alzarmi lisanka dov'è la mia tabacchiera e la contessa andò con le donne dietro il paravento a finire la sua toilette tomschi rimase con la signorina chi è che volete presentare domandò piano l'isabieta ivanovna narumov lo conoscete no è un militare un borghese un militare del genio no di cavalleria e perché credevate che fosse del genio la signorina si mise a ridere e non rispose neanche una parola paul gridò la contessa da dietro il paravento mandami qualche romanzo nuovo soltanto per piacere non di quelli d'ora che vuol dire gran mamma cioè un romanzo dove il protagonista non strangoli né il padre né la madre e dove non ci siano annegati ho una paura tremenda degli annegati di romanzi così adesso non ce n'è a meno che non ne vogliate di russi ma ci sono forse dei romanzi russi mandamene bagiusca mandamene per favore scusate gran mamma ho fretta addio elisabieta ivanovna perché mai credevate che narumov fosse un ufficiale del genio e tomschi uscì dallo spogliatoio elisabieta ivanovna rimase sola lasciò stare il lavoro e cominciò a guardare dalla finestra ben presto da un lato della strada di là dalla casa d'angolo apparve un giovane ufficiale il rossore coperse le guance di lei essa si mise di nuovo al lavoro e chinò il capo fin proprio sul filondente intanto entrò la contessa vestita di tutto punto fa preparare la vettura lisanka e la disse e andiamo a spasso lisanka si alzò dal telaio e cominciò a metter via il suo lavoro che fai madre mia sei sorda forse gridò la contessa fa preparare presto la vettura subito rispose piano la signorina e corse nell'anticamera un servo entrò e forse alla contessa dei libri da parte del principe pavel alexandrovic va bene si ringrazi disse la contessa lisanka lisanka ma dove corri mai a vestirmi farai in tempo matushka rimani a sedere qui apri un po il primo volume legge ad alta voce la signorina prese il libro e lesse alcune righe più forte disse la contessa che hai madre mia hai perso la voce forse aspetta accostami il panchetto più vicino su izabieta ivanovna lesse ancora due pagine la contessa sbadigliò lascia stare quel libro disse la che sciocchezza manda questo al principe pavel e fallo ringraziare ma che ne è della vettura la vettura è pronta disse le zovieta ivanovna dopo aver dato un'occhiata in strada e come mai non sei vestita disse la contessa bisogna sempre aspettarti questo matushka è insopportabile lisa corse in camera sua non erano passati due minuti che la contessa cominciò a suonare con quanta forza aveva le tre donne entrarono di corsa da una porta e il cameriere da un'altra com'è che non si riesce a chiamare in modo che sentiate disse loro la contessa dite al izabieta ivanovna che l'aspetto izabieta ivanovna entrò in cappa e cappellino finalmente madre mia disse la contessa che eleganza perché questo che c'è da sedurre e com'è il tempo c'è vento mi pare non ce n'è punto eccellenza il tempo è molto calmo rispose il cameriere voi parlate sempre a vanvera aprite il finestrino proprio così c'è vento e freddissimo staccate i cavalli dalla vettura e zanka non andremo fuori era inutile mettersi in gingheri ed ecco la mia vita pensò l'izabieta ivanovna realmente l'izabieta ivanovna era un essere infelicissimo amaro è il pane altrui dice dante e duri sono i gradini delle altrui scale e chi può conoscere l'amarezza della dipendenza se non una povera fanciulla educata presso una vecchia di gran nome la contessa certo non aveva un animo malvagio ma era capricciosa come una donna viziata dalla società avara e immersa in un freddo egoismo come del resto tutti i vecchi che hanno esaurito la propria riserva d'amore al loro tempo rimangono estranei al presente e l'era partecipe di tutte le vanità del gran mondo si trascinava ai valli dove rimaneva seduta in un angolo imbellettata e vestita secondo la moda antica come un mostruoso e indispensabile ornamento della sala da ballo e si avvicinavano con profondi inchini gli ospiti che giungevano ma secondo un rito prestabilito e poi nessuno si occupava più di lei in casa sua e la riceveva tutta la città osservando con severa etichetta e non riconoscendo in faccia nessuno da sua numerosa servitù ingrassata e incanutita nella sua anticamera e nella stanza delle domestiche faceva quel che voleva derubando a gara la vecchia moribonda l'isabietta ivanovna era la martire della casa serviva il tè e riceveva delle sgridate per l'eccessivo consumo dello zucchero leggeva i romanzi ad alta voce ed era responsabile di tutti gli errori dell'autore accompagnava la principessa nelle sue passeggiate e rispondeva del tempo e del selciato era stato fissato uno stipendio che non pagavano mai interamente ciò nonostante pretendevano da lei che fosse vestita come tutte cioè come pochissime nella società la parte che la recitava era la più miserevole tutti la conoscevano e nessuno la notava ai balli ballava soltanto quando mancava un vis a vis e le signore la prendevano sotto brazzo ogni volta che avevano bisogno di andare nello spogliatoio ad accomodare qualcosa nella loro acconciatura e la era orgogliosa sentiva vivamente la propria condizione e si guardava intorno aspettando con impazienza un liberatore ma i giovanotti calcolatori nella loro sventata vanità non la degnavano della propria attenzione benché l'isavieta ivanovna fosse cento volte più carina delle sfacciate e fredde fanciulle da marito alle quali facevano la corte quante volte lasciando pian pianino il noioso e fastidioso salotto e la se ne andava a piangere nella sua povera stanza dove c'era un paravento coperto di tappezzeria un cassettone un piccolo specchio e un letto verniciato e dove una candela di sego splendeva debolmente in un candeliere di rame una volta questo accadde due giorni dopo la serata descritta sul principio di questo racconto e una settimana prima della scena sulla quale ci siamo fermati una volta isavieta ivanovna sedendo al telaio accanto alla finestra guardò per caso in strada e vide un giovane ufficiale del genio che stava immobile e aveva fissato gli occhi sulla sua finestra e l'abbassò il capo e si rimise al lavoro cinque minuti dopo guardò ancora il giovane ufficiale stava fermo al medesimo posto non avendo l'abitudine di civettare con gli ufficiali che passavano smise di guardare in strada e ricamò per quasi due ore senza levare il capo servirono il pranzo e la si alzò cominciò a metter via il suo telaio e avendo guardato per caso in strada vide di nuovo l'ufficiale questo le sembrò abbastanza strano dopo pranzo si avvicinò alla finestra con un certo senso di inquietudine ma l'ufficiale non c'era più e lei se ne dimenticò dopo un paio di giorni uscendo con la contessa per salire in vettura e la lo vide di nuovo era fermo proprio vicino all'ingresso col volto coperto dal collo di castoro i suoi occhi neri scintillavano di sotto al cappello itavia te vanola si spaventò senza sapere lei stessa di che e salì in vettura con un'inspiegabile emozione tornata a casa corse alla finestra l'ufficiale stava fermo al posto di prima fissando gli occhi su di lei e la si scostò tormentata dalla curiosità e agitata da un sentimento per lei affatto nuovo da quel tempo non era passato un giorno che il giovanotto a una certa ora non comparisse sotto le finestre della loro casa fra lui e lei si stabilirono dei rapporti non combinati mentre era seduta a lavorare al suo posto e la sentiva l'avvicinarsi di lui levava il capo lo guardava ogni giorno più a lungo giovanotto sembrava esserle riconoscente per questo e la vedeva con lo sguardo acuto della giovinezza come un rapido rossore copriva le palli dei guance di lui ogni volta che i loro sguardi si incontravano dopo una settimana e lei gli sorrise quando tomschi aveva chiesto alla contessa il permesso di presentarle il suo amico il cuore della povera ragazza aveva cominciato a battere ma avendo saputo che narumov non era un ufficiale del genio ma della guardia a cavallo si rammaricò di aver manifestato con una domanda indiscreta il proprio segreto allo sventato tomschi german era figlio di un tedesco russificato che gli aveva lasciato un piccolo capitale essendo fermamente convinto della necessità di consolidare la propria indipendenza german non toccava neppure gli interessi viveva del solo stipendio e non si permetteva il minimo capriccio del resto egli era chiuso e ambizioso e i suoi compagni avevano raramente l'occasione di ridere la sua soverchia economia aveva delle forti passioni e un'immaginazione infuocata ma la fermezza l'aveva salvato dai soliti errori della gioventù così per esempio essendo nell'anima un giocatore non aveva mai preso una carta in mano da che calcolava che il suo patrimonio non gli permettesse come gli diceva di sacrificare l'indispensabile per la speranza di acquistare il superfluo e ciò nonostante passava delle notti intere alla tavola da gioco e seguiva con febbrile emozione le varie vicende del gioco l'aneddoto delle tre carte agì fortemente nella sua immaginazione e per tutta una notte non gli uscì di mente chi accadrebbe e gli pensava la sera del giorno dopo errando per pietroburgo chi accadrebbe se la vecchia contessa mi svelasse il suo segreto o mi indicasse quelle tre carte sicure e perché non tentare la propria fortuna presentarmi a lei entrare nelle sue grazie magari diventare il suo amante ma per tutto questo ci vuole del tempo e lei ha 86 anni può morire fra una settimana fra due giorni ma anche quell'aneddoto ci si può credere no l'economia la moderazione e l'amore al lavoro ecco le mie tre carte sicure ecco quello che triplicherà se duplicherà il mio capitale e mi darà la tranquillità e l'indipendenza ragionando a questo modo egli si ritrovò in una delle strade principali di pietroburgo davanti a una casa di vecchia fattura la strada era in gombra di carrozze le vetture andavano una dietro l'altra verso l'ingresso illuminato dalle vetture si allungavano fuori ogni momento ora la gambetta snella di una giovane bellezza ora un rumoroso stivalone alla scudiera ora una calza rigata e uno scarpino diplomatico le pellizze ai mantelli balenavano dinanzi al maestro guardaportone german si fermò di chi è questa casa e gli domandò alla guardia di città che aveva il suo casotto all'angolo della contessa rispose la guardia di città german fremette lo stupefacente aneddoto riapparve di nuovo nella sua immaginazione si mise a camminare vicino alla casa pensando alla sua padrona e alla meravigliosa facoltà di lei ritornò tardi nel suo umile cantuccio a lungo non poteva addormentarsi e quando il sonno si impadronì di lui sognò le carte la tavola verde fasci di assegnati e mucchi di marenghi egli metteva una carta dietro l'altra raddoppiava risolutamente le poste vinceva senza interruzione rastrellava loro tirandolo verso di sé e metteva in tasca gli assegnati vegliandosi ormai tardi egli sospirò per la perdita della sua fantastica ricchezza andò di nuovo errando per la città e si ritrovò di nuovo davanti alla casa della contessa sembrava che una forza sconosciuta lo attraesse si fermò e cominciò a guardare le finestre a una di esse vide una testina dai capelli neri chinata probabilmente su un libro o sul lavoro la testina si sollevò german vide un visetto fresco e degli occhi neri quel momento decise della sua sorte fumé crivé monage de lettres de quatre pages plus vite que se ne puis les lire l'isavieta ivanovna aveva appena fatto in tempo a togliersi il cappotto e il cappello che la contessa l'aveva già mandata a chiamare e aveva fatto preparare di nuovo la vettura esse uscirono per salire in carrozza nello stesso momento in cui due lacchè sollevavano la vecchia e la ficcavan dentro lo sportello disavieta ivanovna proprio accosto alla ruota vide il suo ufficiale del genio egli le prese la mano lei non poteri aversi dallo spavento e il giovanotto scomparve nella mano di lei rimase una lettera ella la nascose dentro un guanto e per tutta la strada non udì e non vide nulla la contessa aveva l'abitudine di fare ogni momento delle domande in vettura chi è che abbiamo incontrato come si chiama questo ponte che c'è scritto là sull'insegna isavieta ivanovna questa volta rispondeva a vanvera e a sproposito e fece arrabbiare la contessa che ti succede madre mia sei diventata scema forse non mi senti o non mi capisci si ha lodato il dio io non sono blesa e non sono ancora uscita di cervello isavieta ivanovna non l'ascoltava tornata a casa e la corse in camera sua e tirò fuori la lettera dal guanto non era sigillata isavieta ivanovna la lesse la lettera conteneva una dichiarazione d'amore essa era tenera rispettosa e presa parola parola da un romanzo tedesco ma isavieta ivanovna non sapeva il tedesco e ne fu molto contenta tuttavia la lettera da lei accettata la inquietava straordinariamente era la prima volta che entrava in segreti era la prima volta che entrava in segreti stretti rapporti con un uomo giovane la temerità di lui l'atterriva si rimproverava la propria condotta imprudente e non sapeva che fare smettere di star seduta vicino alla finestra e con indifferenza raffreddare nel giovane ufficiale il desiderio di ulteriori persecuzioni rimandargli indietro la lettera rispondere freddamente con risolutezza non aveva con chi consigliarsi non aveva né un'amica né una maestra isavieta ivanovna si decise a rispondere e la si sedette alla scrivania prese una penna la carta e si mise a riflettere cominciò parecchie volte la sua lettera e la strappò ora le espressioni le sembravano troppo compiacenti ora troppo crudeli finalmente poté scrivere alcune righe di cui rimase contenta sono sicura e la scriveva che avete delle intenzioni oneste e che non volevate offendermi con un atto in consulto ma la nostra conoscenza non dovrebbe cominciare in questo modo vi restituisco la vostra lettera e spero di non avere ragione di lamentarmi in futuro ad una mancanza di rispetto immeritata il giorno dopo vedendo german che veniva isavieta ivanovna si alzò del telaio entrò in sala aperse il finestrino e gettò la lettera in strada sperando nella sveltezza del giovane ufficiale german accorse la raccattò ed entrò in una pasticceria tolto via il sigillo egli trovò la propria lettera e la risposta di isavieta ivanovna questo appunto egli si aspettava e tornò a casa molto occupato dal suo intrigo amoroso tre giorni dopo elisavieta ivanovna una ragazzina giovane dagli occhi vivaci portò un bigliettino da una modisteria elisavieta ivanovna la perse con inquietudine prevedendo richieste di denaro e a un tratto riconobbe la scrittura di german vi siete sbagliata anima mia disse il questo biglietto non è per me no proprio per voi rispose la coraggiosa fanciulla senza nascondere un sorriso furbesco fate il favore di leggerlo isavieta ivanovna scorse il biglietto german chiedeva un appuntamento non può essere disse l'isavieta ivanovna spaventandosi e della fretta e delle richieste e del modo da lui usato questo probabilmente non è stato scritto a me e strappò la lettera in minuti pezzetti se la lettera non è per voi perché mai l'avete strappata disse la ragazzina l'avrei restituita a quello che l'ha mandata per favore anima mia disse elisavieta ivanovna infiammandosi per la sua osservazione da ora innanzi i biglietti da me non ne portate e a colui che va mandata dite che si deve vergognare ma german non si arrese elisavieta ivanovna ogni giorno riceveva delle lettere da lui ora in un modo ora nell'altro e se non erano più tradotte dal tedesco german le scriveva ispirato dalla passione e parlava col linguaggio che gli era proprio vi si esprimeva e l'inesorabilità dei suoi desideri e il disordine di una immaginazione senza freni zavieta ivanovna non pensava più a mandarle indietro se ne inebriava aveva cominciato a rispondervi e i suoi biglietti diventavano ognora più lunghi e più teneri finalmente ella gli gettò dalla finestra la seguente lettera stasera c'è un ballo dall'ambasciatore di la contessa ci sarà rimarremo fin verso le due eccovi un'occasione di vedermi a quattro occhi non appena la contessa sarà andata via i suoi domestici probabilmente andranno ognuno per conto suo nell'entrata rimarrà il guardaportone ma anche lui di solito se ne va nel suo sgabuzzino venite alle 11 e mezzo andate dritto sulla scala se troverete qualcuno nell'anticamera domandate se la contessa è in casa se vi diranno di no non ci sarà nulla da fare dovrete tornare indietro ma probabilmente non incontrerete nessuno le donne stanno in camera loro tutte in una sola stanza dall'anticamera volgete a sinistra andate sempre dritto fino alla stanza da letto della contessa nella stanza da letto dietro un paravento vedrete due piccole porte quella di destra da in uno studio dove la contessa non entra mai quella di sinistra in un corridoio e proprio lì c'è una stretta scala a chiocciola essa porta alla mia stanza german fremeva come una tigra aspettando l'ora fissata alle 10 di sera era già fermo davanti alla casa della contessa il tempo era orribile il vento urlava cadeva a fiocchi una neve bagnata i fanali davano una luce smorta le strade erano vuote qualche rara volta un fiaccheraio si trascinava avanti col suo magro ronzino facendo la posta a un qualche passeggero ritardatario german stava fermo col solo sopravvito addosso senza sentire nel vento nella neve finalmente venne la vettura della contessa german vide come i lacchè portarono fuori tenendola sotto braccio una vecchia curva imbaccucata in una pelliccia di zibellino e come dietro di lei in un mantello leggero col capo adorno di fiori freschi apparve per un attimo la sua protetta lo sportello fu richiuso la vettura si mosse pesantemente sulla neve friabile il guardaportone chiuse la porta le finestre si fecero scura german si mise a camminare vicino alla casa che si era vuotata si avvicinò a un fanale guardò l'orologio erano le 11 e 20 rimase sotto il fanale fissando gli occhi sulla lancetta dell'orologio e aspettando i minuti che rimanevano esattamente alle 11 e mezzo german pose piede sulla scalinata della contessa e salì nell'entrata fortemente illuminata il guardaportone non c'era german corse su per la scala aperse la porta dell'anticamera e vide un servo che dormiva sotto la lampada su un'antica sudicia poltrona con passo leggero e fermo german gli passò vicino il salone e il salotto erano al buio la lampada li illuminava debolmente dall'anticamera german entrò nella stanza da letto dinanzi alla mensola vetrata piena di antiche immagini sacre ardeva una lampada d'oro le poltrone e i divani di seta sbiaditi con cuscini di piuma con la doratura venuta via stavano vicino ai muri ricoperti di tappezzerie cinesi in una triste simmetria al muro erano attaccati due ritratti dipinti a parigi da madame le bourne uno di essi rappresentava un uomo sui 40 anni rosso in viso e grasso in un uniforme verde chiara e con una decorazione l'altro una bella donna giovane dal naso aquilino pettinata all'indietro sulle tempie e con una rosa nei capelli incipriati in tutti gli angoli venivano fuori pastorelle di porcellana orologi da tavola opera del famoso l'erroi scattolette roulette ventaglie e i vari giocattoli femminili inventati alla fine del secolo scorso insieme col pallone di montgolfier e col magnetismo di mesmer german andò dietro il paravento dietro di esso c'era un piccolo letto di ferro a destra si trovava la porta che dava nello studio a sinistra un'altra sul corridoio german la perse vide la stretta scala a chiocciola che conduceva nella stanza della povera protetta ma egli tornò indietro ed entrò nello studio buio il tempo camminava lentamente tutto era calmo in salotto batterono le dodici e tutto tacque di nuovo german stava in piedi appoggiandosi alla stufa fredda era tranquillo il suo cuore batteva con regolarità come quello di un uomo che si fosse deciso a qualcosa di pericoloso ma indispensabile l'orologio batte l'una e le due del mattino ed egli sentì il lontano rumore ed una vettura un'involontaria agitazione si impadronì di lui la vettura si avvicinò e si fermò e gli sentì il rumore del montatoio abbassato nella casa si detterò d'attorno i servi accorsero e che giarono delle voci e la casa si illuminò nella stanza da letto vennero di corsa le tre vecchie cameriere e la contessa mezzo morta entrò e si sprofondò in una poltrona alla voltaire german guardava da una piccola fessura e saviate vanovna gli passò vicino german udì i frettolosi passi di lei sui gradini della sua scala nel cuore di lui si fece sentire qualcosa di simile a un rimorso e tacque di nuovo e gli impietrì la contessa cominciò a spogliarsi davanti allo specchio le tolsero via la cuffia ad orna di rose levarono la parrucca insipriata dalla sua testa canuta dai capelli tagliati bassi gli spilli le piovevano intorno il vestito giallo ricamato d'argento cadde ai suoi piedi gonfi german fu testimone dei disgustosi misteri della sua toilette finalmente la contessa rimase in camiciola da letto e cuffia da notte in questa acconciatura che si addiceva di più alla sua vecchiezza ella sembrava meno orrenda e deforme come tutte le persone vecchie in generale la contessa soffriva di insonnia essendosi spogliata si sedette presso la finestra nella poltrona alla voltaire e congedò le cameriere portarono via le candele la stanza fu di nuovo illuminata dalla sola lampada la contessa stava a sedere tutta gialla muovendo le labbra rientrate ciondolando a destra e a sinistra nei suoi occhi torbidi appariva un'assoluta mancanza di pensiero guardandola si sarebbe potuto pensare che il ciondolio della tremenda vecchia derivasse non dalla sua volontà ma dall'azione di un occulto galvanismo ad un tratto quel viso morto cambiò indicibilmente le labbra smisero di muoversi gli occhi si animarono dinanzi alla contessa stava un uomo ignoto non spaventatevi in nome di dio non spaventatevi disse egli con voce chiara e bassa io non ho intenzione di nuocervi sono venuto a supplicarvi di una grazia la vecchia lo guardava in silenzio e sembrava non averlo udito german immaginò che fosse sorda e chinandosi proprio sul suo orecchio le ripete le stesse cose la vecchia taceva come prima voi potete fare la felicità della mia vita seguito german ed essa non vi costerà nulla io so che voi potete indovinare tre carte di fila german si fermò la contessa sembrava aver capito quello che le si richiedeva sembrava che la cercasse le parole per la sua risposta era uno scherzo disse la infine vi giuro che era uno scherzo non c'è da scherzare con questo ribatte con ira german ricordatevi di ciaplicchi che aiutaste a riguadagnare il perduto la contessa si confuse visibilmente i suoi tratti dimostrarono un forte moto dell'animo ma ella cadde presto nell'insensibilità di prima potete voi seguito german indicarmi coteste tre carte sicura la contessa taceva german seguito per chi avete da custodire il vostro segreto per i nipoti sono ricchi anche senza di questo e non conoscono neppure il valore del denaro uno sciupone le vostre tre carte non l'aiuteranno chi non sa custodire l'eredità paterna morirà lo stesso nella miseria malgrado qualsiasi sforzo demoniaco io non sono uno sciupone conosco il valore del denaro le vostre tre carte non andranno perdute per me su e gli sarà fermato e aspettava con emozione la sua risposta e la taceva german si mise in ginocchio se una volta e gli disse il vostro cuore ha conosciuto il sentimento dell'amore se ne ricordate gli entusiasmi se avete sorriso almeno una volta al pianto di un figlio appena nato se qualcosa di umano ha mai pulsato nel vostro cuore vi supplico per i sentimenti di moglie di amante di madre per tutto quel che c'è di sacro nella vita non rispingete la mia richiesta scopritemi il vostro segreto che ci trovate forse esso è legato un peccato orrendo alla perdita dell'eterna beatitudine a un patto diabolico pensate voi siete vecchia va rimasto ormai poco da vivere io sono pronto a prendere il vostro peccato sulla mia anima basta che mi scopriate il vostro segreto pensate che la felicità di un uomo si trova nelle vostre mani che non soltanto io ma i miei figli i nipoti e i pronipoti benediranno la vostra memoria e la qualcosa di sacro la vecchia non rispondeva neppure una parola german si alzò vecchia strega disse gli a denti stretti allora ti obbligherò bene io a rispondere a questa parola e gli trasse fuori di tasca una pistola alla vista della pistola la contessa manifestò per la seconda volta un forte sentimento cominciò a scrollare il capo e lavò una mano come per ripararsi da uno sparo poi rotolò giù supina e rimase immobile smettete di far puerilità disse german prendendole la mano vi domando per l'ultima volta se volete indicarmi le vostre tre carte sì o no la contessa non rispondeva german vide che era morta home summer sans religion isabete vanovna sedeva nella sua stanza ancora nella sua acconciatura da ballo immersa in profonda meditazione arrivata a casa sarà affrettata a mandar via la servetta insonnolita che le offriva svogliatamente i suoi servici aveva detto che si sarebbe spogliata da sola ed era entrata con emozione in camera sua sperando di trovarvi german e desiderando di non trovarlo fin dal primo sguardo ella si era assicurata della sua assenza e aveva ringraziato la sorte per l'ostacolo che aveva impedito il loro incontro si era seduta senza spogliarsi e aveva cominciato a rammentare tutte le circostanze che in un tempo tanto breve l'avevano attirata così lontano non erano passate tre settimane da quando ella aveva visto per la prima volta il giovanotto dalla finestra ed era già in corrispondenza con lui ed egli era riuscito ad ottenere da lei un appuntamento notturno e la conosceva il nome di lui soltanto perché alcune delle sue lettere erano da lui firmate ma non gli aveva mai parlato non aveva mai sentito la sua voce non aveva mai sentito parlare di lui proprio fino a quella sera strana combinazione quella stessa sera al ballo tomsky tenendo il broncio alla principessa polina che contrariamente al solito civettava non con lui desiderava di vendicarsi dimostrandole dell'indifferenza aveva chiamato lizaveta ivanovna e aveva ballato con lei un'interminabile mazzurca per tutto il tempo aveva scherzato sulla passione di lei per gli ufficiali del genio l'aveva assicurata che sapeva molto di più di quanto ella potesse immaginare e alcuni dei suoi scherzi erano stati così ben diretti che lizaveta ivanovna aveva pensato parecchie volte che il suo segreto gli fosse noto da chi sapete tutto questo e l'aveva domandato ridendo dall'amico di una persona a voi nota aveva risposto tomsky uomo assai notevole e chi è quest'uomo notevole si chiama german lizaveta ivanovna non aveva risposto nulla ma le mani ai piedi le saranno fatti di ghiaccio questo german aveva seguitato tomsky è un personaggio veramente romanzesco ha il profilo di napoleone e l'anima di mefistofile penso che abbia sulla coscienza almeno tre misfatti come siete impallidita mi duele il capo e che cosa vi diceva german o come si chiama german è molto malcontento del suo amico dice che al suo posto agirebbe affatto diversamente suppongo perfino che german stesso abbia delle intenzioni nei vostri riguardi almeno ascolta con molta poca indifferenza le esclamazioni innamorate del suo amico ma dov'è che mi ha veduta in chiesa forse a passeggio lo sai dio forse nella vostra stanza mentre voi dormivate ne è capace tre dame avvicinantesi a loro con la domanda oblio regre avevano interrotto la conversazione che diventava tormentosamente interessante per lizaveta ivanovna la dama scelta da tomsky era la stessa principessina e la era riuscita a spiegarsi con lui facendo un giro di più e girandosi una volta di più davanti alla propria seggiola tomsky ritornato al suo posto non pensava più né a german né alizaveta ivanovna e l'aveva voluto assolutamente riprendere la conversazione interrotta ma la mazurka era finita e poco dopo la vecchia contessa era andata via le parole di tomsky non erano null'altro che chiacchiere da mazurka ma esse erano penetrate profondamente nell'anima della giovane sognatrice il ritratto schizzato da tomsky somigliava all'immagine da lei stessa formata e grazie agli ultimi romanzi questo personaggio ormai volgare spaventava e seduceva la sua immaginazione ella era seduta con le braccia nude in croce col capo ancora adorno di fiori chinato sul petto scoperto a un tratto l'uscio si è perse e german entrò e lei ebbe un fremito ma dove siete stato domandò sottovoce con spavento nella stanza da letto della vecchia contessa rispose german vengo adesso da lei la contessa è morta dio mio che dite e credo seguito german essere io la causa della sua morte zavete vanovna lo guardò e le parole di tomsky eccheggiarono nel suo cuore quest'uomo almeno tre misfatti nella sua anima german si sedette sulla finestra accanto a lei e raccontò tutto zavete vanovna lo ascoltò con orrore sicché quelle lettere appassionate quelle infiammate richieste quella temeraria ostinata persecuzione tutto ciò non era amore i denari ecco di che cosa era affamata l'anima sua non era lei che poteva saziare il suo desiderio e renderlo felice la povera protetta non era nient'altro che la cieca complice di un brigante dell'uccisore della sua vecchia benefattrice nella pianse amaramente nel tardo tormentoso suo pentimento german la guardava in silenzio anche il suo cuore era dilaniato ma né le lacrime della povera fanciulla né lo straordinario fascino della sua afflizione turbavano la sua anima aspra egli non sentiva rimorsi al pensiero della vecchia morta una sola cosa lo faceva inorridire irrevocabile perdita di un segreto dal quale si aspettava all'arricchimento siete un mostro disse finalmente l'isabetta ivanovna io non volevo la sua morte rispose german la mia pistola non è carica tacquero il mattino avanzava l'isabetta ivanovna spense la candela che finiva di consumarsi una pallida luce illuminò la sua stanza e la si asciugò gli occhi bagnati di pianto e li levò su german e gli era seduto sulla finestra con le braccia concerte e le sopracciglia minacciosamente aggrottate in quell'atteggiamento ricordava in un modo straordinario il ritratto di napoleone questa somiglianza colpì perfino l'isabetta ivanovna come potete uscire dalla casa disse finalmente l'isabetta ivanovna io pensavo di accompagnarvi per una scala segreta ma bisogna passare vicino alla stanza da letto e io ho paura ditemi come trovare questa scala segreta saprò uscire isabetta ivanovna si alzò trasse fuori una chiave dal cassettone la consegnò a german e gli diede delle norme particolareggiate german strinse la sua mano fredda inerte baciò il suo capochino e uscì scesce giù per la scala a chiocciola ed entrò di nuovo nella stanza da letto della contessa la vecchia morta stava seduta pietrificata il suo volto esprimeva una profonda calma german si fermò dinanzi a lei la guardò a lungo come desiderando di assicurarsi dell'orrenda verità finalmente entrò nello studio trovò a tastoni la porta dietro la tappezzeria e cominciò a scendere per la buia scala agitato da strane sensazioni per questa stessa scala gli pensava forse 60 anni fa in questa stessa stanza da letto alla medesima ora con la giubba ricamata pettinato all'osè royal stringendo al cuore il suo tricorno scivolava un giovane fortunato che già marcito da un pezzo nella tomba il cuore della sua vecchissima amante il cuore della sua vecchissima amante ha cessato di battere oggi sotto la scala german vide una porta che aperse con quella stessa chiave e si ritrovò in un corridoio a due uscite che lo condussa in strada questa notte è comparsa da me la defunta baronessa fun b era tutta vestita di bianco e mi ha detto buongiorno signor consigliere tre giorni dopo la notte fatale alle nove del mattino german andò al monastero di dove dovevano celebrarsi i funerali della defunta contessa non sentendo rimorso egli non poteva però soffocare del tutto la voce della coscienza che gli ripeteva tu sei l'assassino della vecchia avendo poca vera fede egli aveva una quantità di pregiudizi credeva che la contessa morta potesse avere un influsso nocivo sulla sua vita e si era deciso a venire ai suoi funerali per ottenere il perdono la chiesa era piena german potevendere a fatica quella folla di gente german potevendere a fatica quella folla di gente la bara era posta su un ricco catafalco sotto un baldacchino di velluto la defunta vi giaceva con le brazza incrociate sul petto in cuffia di pizzo e in vestito bianco di raso intorno stavano i suoi familiari i servi in livrea nera con dei nastri stemmati sulla spalla e coi cieli in mano i parenti in gran lutto figli nipoti pronipoti nessuno piangeva le lacrime sarebbero state un'affectazione la contessa era così vecchia che la sua morte non poteva colpire nessuno e i suoi parenti da un pezzo guardavano a lei come a una sopravvissuta un giovane vescovo pronunciò il discorso funebre con espressioni semplici e commoventi egli rappresentò il pacifico trapasso della donna giusta per la quale lunghi anni erano stati una dolce edificante preparazione a una fine cristiana l'angelo della morte la trovata disse l'oratore vegliante in buoni pensieri e nell'attesa del fidanzato della mezzanotte l'ufficio divino si compì con triste decoro i parenti andarono per prime a dar l'addio alla salma poi si mostrano anche i numerosi ospiti venuti a salutare colei che da così lungo tempo era partecipe dei loro vani divertimenti dopo di loro anche tutti i famigli finalmente si avvicinò la vecchia dama di compagnia coetanea della defunta due donne giovani la conducevano sotto brazzo ella non aveva la forza di fare un inchino fino a terra e unica versò qualche lacrima baciando la mano fredda della sua signora dopo di lei german si decise ad avvicinarsi alla bara fece un inchino fino a terra e per qualche minuto stette prostrato sul pavimento freddo cosparso di rami da bete finalmente si sollevò pallido come la stessa defunta salì i gradini del catafalco e si inchinò in quel momento gli parve che la morta guardasse con irrisione strizzando un occhio german facendosi indietro in fretta incespicò e stramazzò a terra il supino lo sollevarono nello stesso tempo portaron fuori sul sagrato di zavieta ivanovna svenuta quest'episodio turbò per qualche minuto la solennità del funebre rito fra gli intervenuti si sollevò un sordo mormorio e un magro ciambellano parente stretto della defunta sussurrò all'orecchio di un inglese rito accanto a lui che il giovane ufficiale era un figlio naturale di lei alla qual cosa l'inglese rispose con freddezza oh per tutta la giornata german fu straordinariamente sconvolto pranzando in una trattoria solitaria beve molto contro il suo solito nella speranza di soffocare l'agitazione interiore ma il vino rendeva ancora più calda la sua immaginazione tornato a casa si gettò sul letto senza spogliarsi e si addormentò profondamente si svegliò che era già notte la luna illuminava la sua stanza guardò l'orologio erano le tre meno un quarto il sonno gli era passato era seduto sul letto e pensava ai funerali della vecchia contessa intanto qualcuno dalla strada guardò dentro dalla sua finestra e si scosta subito german non ci fece nessuna attenzione un minuto dopo sentì che aprivano la porta nella stanza davanti german pensava che il suo attendente ubriaco secondo il suo solito ritornasse da una passeggiata notturna ma udì un passo ignoto qualcuno camminava ci abbattando la porta si aperse entrò una donna vestita di bianco german la prese per la sua vecchia balia e si stupì domandandosi che cosa potesse averla condotta lì in quel momento ma la donna bianca scivolando si trovò ad un tratto dinanzi a lui e german riconobbe la contessa sono venuta da te contro la mia volontà disse la con voce ferma ma mi è stato comandato di esaudire la tua richiesta il tre il sette e l'asso vinceranno in fila per te ma a patto che tu non metta più di una carta al giorno e che poi tu non giochi più per tutta la vita ti perdono la mia morte a patto che tu sposi la mia protetta l'izzabieta ivanovna a questa parola ella si voltò senza far rumore andò verso l'uscia e scomparve ci abbattando german sentì come sbatté la porta nell'entratura e vide che qualcuno guardò di nuovo dentro dalla finestra german per un pezzo non poterì aversi andò nell'altra stanza il suo attendente dormiva sul pavimento german riuscì a svegliarlo a fatica la porta dell'entratura era chiusa german tornò nella sua stanza accese la candela e annotò la sua visione attendè come avete osato dirmi attendè eccellenza ho detto non si attendè due idee fisse non possono coesistere nell'ordine morale nello stesso modo come i due corpi non possono occupare il medesimo spazio nel mondo fisico il tre il sette l'asso ben presto misero in ombra nell'immaginazione di german l'immagine della vecchia morta il tre il sette l'asso non gli uscivano di capo e gli si muovevano sulle labbra vedendo una ragazza e gli diceva come snella un vero tre dei cuori gli domandavano che ora è e gli rispondeva mancano cinque minuti al sette ogni uomo panciuto gli ricordava un asso il tre il sette l'asso lo perseguitavano in sogno assumendo tutti gli aspetti possibili il tre fioriva dinanzi a lui nella forma di una splendida grande fiora il sette appariva come una porta gotica l'asso come un enorme ragno tutti i suoi pensieri si fusero ognuno solo approfittare del segreto che gli era costato caro cominciò a pensare alle dimissioni e ad un viaggio voleva strappare il tesoro alla fortuna stregata nelle case da gioco pubbliche di parigi un caso gli risparmiò le preoccupazioni a Mosca si era formato un gruppo di ricchi giocatori presieduto dal buon Cekalinski che aveva passato tutta la sua vita giocando a carte e un tempo aveva guadagnato dei milioni vincendo cambiali e perdendo in contanti la lunga esperienza gli aveva fatto meritare la fiducia dei compagni e la casa aperta, un bravo cuoco l'affabilità e l'allegria gli avevano conquistato la stima della gente egli venne a Pietroburgo la gioventù si precipitò da lui dimenticando i balli per le carte e preferendo le tentazioni del faraone alle seduzioni della galanteria Narumov portò da lui German essi attraversarono una fila di splendide stampe zeppe di servitori rispettosi tutte erano piene di gente alcuni generali e consiglieri segreti giocavano al guist i giovanotti stavano a sedere mezzo sdraiati sui divani di seta e fumavano la pipa in salotto a una lunga tavola vicino alla quale si stringevano una ventina di giocatori stava seduto il padron di casa e teneva il banco era un uomo sui 60 anni dall'aspetto più rispettabile il capo coperto da un'argentia canizia il volto grasso e fresco dava l'immaginazione dell'indifferenza gli occhi scintillavano animati da un continuo sorriso Narumov gli presentò German Cekalinski gli strinse la mano lo pregò di non far complimenti e seguitò a tenere il banco la girata durò molto sulla tavola c'erano più di 30 carte Cekalinski si fermava dopo ogni battuta per dare a coloro che giocavano il tempo di prendere una decisione segnava la perdita prestava attenzione compitamente alle loro richieste ancora più compitamente raddrizzava un angolo piegato in più del necessario da una mano distratta finalmente la girata finì Cekalinski mischiò le carte e si preparò a tenere il banco in un'altra permettetemi di mettere una carta disse German protendendo una mano da dietro un grasso signore che era lì che puntava Cekalinski sorrise e si inchinò in silenzio in segno di piano consenso Narumov ridendo si congratulò con German per avere rotto il lungo digiuno e si augurò un buon principio Ci sto disse German scrivendo col gesso la posta sulla sua carta Quanto? domandò colui che teneva il banco strizzando gli occhi Perdonatemi non giungo a vedere 47.000 rispose German A queste parole tutte le teste si volsero in un attimo e tutti gli occhi si fissarono su German E' impazzito pensò Narumov Permettetevi che io vi osservi disse Cekalinski con suo immutabile sorriso che il vostro gioco è forte Nessuno qui ha messo finora più di 275 rubli come prima giocata Ebbene ribattì German Fate onore alla mia carta o no? Cekalinski si inchinò con la stessa aria di sottomesso consenso Volevo soltanto farvi presente e gli disse che essendo io onorato della fiducia dei compagni non posso giocare che a contanti Per parte mia certo sono sicuro che basta la vostra parola ma per la regolarità del gioco e dei conti vi prego di mettere i denari sulla carta German trasse di tasca una cedola bancaria e la tesiace Kekalinski che guardata la disfuggita la pose sulla carta di German Egli cominciò il gioco A destra andò un nove a sinistra un tre Ha vinto disse German mostrando la sua carta Fra i giocatori si levò un mormorio Cekalinski aggrottò le sopracciglia ma il sorriso tornò subito sul suo volto Volete ricevere il vostro? Egli domandò a German Fatemi questo piacere Cekalinski trasse di tasca alcuni biglietti di banca e pagò subito German ricevette i suoi denari e si allontanò dalla tavola Narumov non poteria versi German beve un bicchiere di limonata e andò a casa Il giorno dopo alla sera egli comparve di nuovo da Cekalinski Il padrone di casa teneva il banco German si avvicinò alla tavola Coloro che puntavano gli fecero subito largo Cekalinski lo salutò affabilmente German aspettò un'altra girata mise una carta ponendovi i suoi 47.000 rubli e la vincita di ieri Cekalinski cominciò il gioco A destra venne fuori un fante A sinistra un 7 German scoprì un 7 Tutti fecero Ah! Cekalinski rimase visibilmente confuso Contò 94.000 rubli e li diede a German German li ricevette con sangue freddo e nel medagino istante si allontanò La sera dopo German comparve di nuovo vicino alla tavola Tutti lo aspettavano I generali e i consiglieri segreti abbandonarono il loro whist per vedere un gioco così straordinario Gli giovani ufficiali saltarono su dai divani Tutti i servitori si raccolsero nel salotto Tutti circondarono German Gli altri giocatori non misero le carte aspettando con impazienza come gli avrebbe finito German era ritto vicino alla tavola pronto a puntare da solo contro il pallido ma sempre sorridente Cekalinski Ciascuno dissuggellò un mazzo di carte Cekalinski mischiò German tolse via e mise la sua carta coprendola ad un fascio di biglietti di banca Sembrava un duello Intorno regnava un profondo silenzio Cekalinski cominciò il gioco Le sue mani tremavano A destra cadde una donna A sinistra un asso Ha vinto l'asso disse German E scoprì la sua carta La vostra donna è ammazzata disse affabilmente Cekalinski German ebbe un fremito Realmente Invece di un asso Egli aveva la donna di picche Non credeva ai suoi occhi Non comprendendo Come avesse potuto sbagliarsi nella scelta In quel momento Gli sembrò che la donna di picche Strizzasse gli occhi e sorridesse Una straordinaria somiglianza lo colpì La vecchia! Egli gridò inorridendo Cekalinski tirò a sé I biglietti di banca perduti German stava immobile Quando egli si fu allontanato dalla tavola Si levò un rumoroso chiacchierio L'ha puntato bene Dicevano i giocatori Cekalinski Mischiò di nuovo le carte Il gioco Seguì il suo corso Conclusione German è impazzito E' stato messo nell'ospedale Obuchov Al numero 17 Non risponde a nessuna domanda E borbotta straordinariamente in fretta Tre, sette asso Tre, sette donna Lizaveta Ivanovna Si è sposata con un giovanotto molto gentile Egli è impiegato da qualche parte E ha un discreto patrimonio E' il figlio dell'antico amministratore Della vecchia contessa In casa di Lizaveta Ivanovna Viene educata una parente povera Tomsky fu promosso capitano Tomsky fu promosso capitano E sposò la principessa Paulina